Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Le domande, visto che le dicono io non avrei fatto un decreto ma avrei fatto come feci, un accordo, a fronte dei numeri di arrivi, sono 115.000, il 100% in più rispetto all'anno passato, secondo lei il governo Meloni sta sbagliando qualcosa, visto che quegli stessi dirigenti quando erano all'opposizione parlavano di invasione? Sì, ma il tema è questo, le migrazioni non sono un'emergenza, nonostante siano aumentate al 100%, non sono un'emergenza, sono un dato strutturale del Paese, ci sono state all'alba della natura umana, ci sono adesso, ci saranno nel futuro, anzi nei prossimi 20 anni probabilmente aumenteranno, perché accanto alle ragioni classiche ci sarà il cambiamento climatico che sconvolgerà il mondo. Le Nazioni Unite prevedono che un miliardo e 200 milioni di persone saranno consente a spestarsi nei prossimi 20 anni per clausi climatiche. Se questo è vero noi dobbiamo avere una politica non emergenziale ma strutturale. In questo bisogna fare un doppio movimento, c'era un bellissimo film di Wim Wenders intitolato doppio movimento. Se posso dare un suggerimento, naturalmente io sono tra virgolette un uomo di strada, soltanto suggerimenti posso dare, è quello di avere due cose. Uno, chiedere un intervento più attivo dell'Unione Europea sulla questione Africa. Sì. E vede, negli ultimi giorni noi abbiamo avuto due colpi di Stato in due Paesi in Africa. Il rischio è che questi metodi si estendano. Noi abbiamo il rischio di una instabilità permanente in Africa che produce, diciamo, flussi migratori imponenti. Questa è la preoccupazione che c'è nell'Unione Africana. Quindi, se io fossi il governo, chiederei un consiglio europeo di capacità di governo per discutere dell'Africa, non dell'immigrazione, dell'Africa. Perché quello sarebbe una comunicazione di carattere strutturale. Secondo, alla luce di quella discussione sull'Africa, proporrei un piano per la stabilizzazione, la crescita economica e la prosperità dell'Africa. Perché questo è il modo fondamentale. Mi consento l'ultima cosa. Infine, proporrei un patto all'Unione Africana per la gestione legale dei flussi migratori. E c'è una disponibilità da parte dell'Africa per questo. Allora, Giorgia Meloni, un passo in questo senso lo ha fatto. Alla fine di luglio ha riunito tutti i capi di Stato, capi di governo della sponda sud del Mediterraneo. E non solo, è stata lasciata sola finora dall'Europa o non ha invitato chi avrebbe dovuto? Quello è stato un primo passo importante e l'Italia ha fatto bene. E perché l'Italia deve fare da apripista. Oggi c'è bisogno di una decisione formale del Consiglio dei capi di Stato e di governo dell'Europa. Non bastano più soltanto, tra virgolette, le parole. C'è bisogno di un atto concreto. Cioè bisogna riunire il Consiglio europeo e quel Consiglio europeo deve predisporre, deve trovare i soldi immediatamente per un piano per l'Africa. Vede, nel 2014 e nel 2015 l'Europa, su impulso della Germania e in particolare della cancelliera Merkel, in pochissimi giorni trovò 3 miliardi di euro da dare alla Turchia. Allora, a proposito di Merkel, a seguito di quel vertice alla Farnesina, in un'intervista a Libero lei disse che Giorgia Meloni aveva la stoffa per poter diventare una sorta di nuova Merkel d'Europa. Io le domando, alla luce della difficile trattativa con l'Unione Europea anche sui conti e alla luce anche degli equilibri che si stanno definendo dai sondaggi in vista delle prossime europee, Giorgia Meloni dovrebbe avvicinarsi sempre di più al Partito Popolare europeo rispetto a... per poter far contare l'Italia nella prossima Europa. Ma vede, questa è una questione di posizionamento politico. Io penso che la Meloni, che rappresenta l'Italia, che è un paese molto esposto e che però ha un'idea del governo dei flussi migratori, dovrebbe tra virgolette rappresentare un riferimento politico per una ragione semplicissima. Vede, in Italia si è votato l'anno scorso e probabilmente questo governo durerà altri quattro anni. In Europa altri governi non hanno lo stesso orizzonte che c'è all'Italia. Tocca al Presidente del Consiglio italiano essere apripista, non farlo da sola, apripista e coinvolgere insieme gli altri paesi europei. Questo è il compito storico che oggi ha l'Italia, coinvolgere gli altri paesi europei nel rapporto con l'Africa. A maggior ragione perché c'è la guerra in Ucraina. Per questo ho detto che deve prendere esempio dalla Merkel, perché la Merkel da cancelliere tedesco fece questo negli anni tra il 2010 e il 2015.